Salve a tutti ragazzi da Alex the Lord oggi cominciamo Dark Souls 3 è la prima volta che gioco a questo gioco scusate il gioco di parole e so tre ma sotto ricatto dei miei amici mi hanno costretto a comprare questo gioco tra l'altro vecchissimo è del BN16 ma ovviamente essendo un gioco anche online va ancora molto e niente iniziamo Dark Souls 3 la storia e vediamo un po' cosa farei ovviamente ragazzi ci sarà il video iniziale dove costruiremo il nostro personaggio e tutto poi questo è un po' più gioco più da live che è da farci video perché comunque è abbastanza molto molto lungo e vario non è che c'è un inizio a una fine cioè sì però è molto vario tutto online quindi magari la storia se cercherò la porterò in video poi farò delle dirette che poi o sul twitch o direttamente sul canale di youtube AlexTheDoddj e se non vi siete iscritti iscrivetevi e seguiteli anche su Instagram che lì ci sono tutti gli aggiornamenti di quello che farò durante la settimana devi riuscire ai miei video e tutto su AlexTheDodd HansCoreDj e niente ragazzi iniziamo una nuova partita con la nuova avventura allora regola minuso ok ci vedo bene velocità visuale 5 va bene si si sente veramente veramente bene grazie a tutti Grazie a tutti. La musica è bellissima. La campana suona quando il fuoco non può essere vincolato. E gli antichi signori dei tizioni si risvegliano dalla sepoltura. Tizioni? Grafica bellissima. Aldrich, il santo delle profondità. Ah, questo è il santo. Questo è il kraken, non è il santo. Mamma mia. La legione di non morti di Farron, guardiani dell'abisso. Chi è? Il solitario signore della capitale, profanata. Jorm, il gigante. Senza faccia. Bella, la grafica è bellissima. In verità però, i signori abbandoneranno i propri troni. E la fiamma sopita sorgerà. Un nuovo morto maledetto e senza nome. Meritevole di diventare un tizioni. Così è. La cenere anela per le braccia. Veniamo all'acchittamento. Allora ragazzi, per iniziare userò il mouse, ma poi il gioco lo farò con il controller. Nome, voce incompleta, come ci chiamiamo? Il signore. No, il signore. Oh, guarda il maschio. Dal giovane. Perché se può cambiare. Cavaliere. Dono sepolclare nessuno. Molti predefiniti. Allora, sesso maschio. Età. Adulto. Classe. Mercenario. Guerriero. Questo che è? Un ex araldo. Ladro. Livello 5. Vitalità 10. Assassino. Stregone. Piromani. Chierico. Discriminato. Proviamo l'assassino ragazzi. Proviamo l'assassino. Proviamo l'assassino. Dovare abbastanza. Dovare abbastanza. Dono sepolcrale. anello vitale benedizione divina, benedizione nascosta bomba nera gemma di fuoco anima libera moneta d'oro rugginita globo rosso inclinato giovane ramo bianco manello vitale volti preferiti cambiamo nobile di astora studente della scuola del drago nel vizio de carim senza occhi hanno fatto cieco piantante serpentino nel colore che hanno le patite ombra letale di london ma se si è cadavere per la loro cultura se il plebeo al solito corporato mamma mia standard magro molto magro robusto molto robusto parte superiore robusto parte inferiore robusto un po' come me questa che è l'abbiamo fatta conferma reazione ok cavadaggio ok ecc Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un duci d'errore. Allora, provo a risolvere una cosa. Ok, riprendiamo un attimo. Allora, inizio giocando con mouse e tastiera. Allora, perché... Qua mi regolero con il... Qua mi regolero? Qua mi regolero? Qua mi regolero? Dove sta il messaggio? Qua mi regolero? 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 Movimento Salto Oh 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 Grazie a tutti Io leggo tutti Attacco potente Se c'è il joystick Attacco normale Controlla visual Beh ragazzi Graficamente è bello Non lo conoscevo Io ero fermato al primo Stronzo Vieni giù Vieni giù Vieni Guardia Dietro il nemico Alza un corpo Letto Parata le spinge attacco Controattacco dopo la parata Pure il calcio Ragazzi Io devo portarci a questo Equivaggia arma Destra a due mani Arte di combattimento a due mani Ok Ok Allora ho capito che con il mouse Con la tastiera Non si gioca tanto facilmente Con la tastiera non si gioca tanto facilmente Con la tastiera non si gioca tanto facilmente vediamo dove arriviamo perché comunque vediamo dove arriviamo vediamo dove arriviamo non c'è niente no non c'è niente qui non ho mai inculato anime recuperate dove si va torna ieri messaggi cripti cicci ah ti abbiocchi così buona sapienza quanti cazzo di messaggi non c'è qua non c'è qua non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Al prossimo video! Ciao! Grazie a tutti! Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!